Siamo al mio terzo mese a Kobane, questi sono i miei compagni. Come mai c'è la copertura sui fucili? Perché questi non sono Kalashnikov, ma sono fucili da tiratore scelto. E questo muro ha crollato qui, dovuto a un colpo di un lanciarazzi, di un assalto che abbiamo ricevuto dalle truppe dell'Isis. Io ero in quell'edificio, cercavano di colpire me con quel lanciarazzi. Quando sono andato via dal fronte è successo il caos. Tutti hanno abbandonato le loro linee, tutti quelli hanno potuto. E per un momento il fronte è stato scoperto perché sono arrivati tutti dove ero io e si sono radunati tutti, tutti mi hanno voluto salutare. Poi hanno iniziato a sparare in aria, una scena commovente. E certo, io ho lasciato grandi, grandi amici lì, anzi fratelli. Una parte del mio cuore resterà sempre lì a Cobano con loro.